Ci sembrava giusto e capiremo poi perché vogliamo mandare il whatsapp di due amiche che ce l'hanno mandato. Due amiche che stanno facendo un viaggio in Sud America, sono due ragazze che hanno scelto insieme di fare questo percorso attraverso tutto il Sud America. Sentiamo cosa ci dicono. Katia e Cecilia. Ciao Italia e ciao a tutti gli amici di Il Mondo Insieme. Sono Katia e ho 27 anni. E io sono Cecilia e ne ho 22. Tre ne passano partite dall'Italia e adesso sono da tutti in Sud America. E oggi ci troviamo qui nella capitale del Cile, Santiago. Viaggiare è bellissimo ragazzi, fatelo soprattutto per le donne. Non abbiate paura di uscire di casa, il mondo è la vostra casa. Allora, avete sentito? Da Santiago del Cile, Katia e Cecilia. Ragazzi è bellissimo viaggiare da sole, non abbiate paura di uscire di casa.